Sentimenti, comicità e maiali. Sono questi gli ingredienti del libro di Booktube Italia Legge Indipendente, la felicità di Emma, che io ho letto per la Keller, che è la casa editrice di questo mese. La Booktube Italia Legge Indipendente è un'iniziativa ideata da Eleonora del canale Mistortellino, che ha l'obiettivo di far conoscere un po' di più, grazie a YouTube, le case editrici indipendenti che magari in libreria o nei canali di marketing tradizionali hanno minore visibilità. La case editrice di questo mese è la Keller, vi ricordo sempre di andare nell'infobox per cercare i video dei miei compagni di avventura e poi il canale Instagram, Goodreads, eccetera. Vi dicevo la case editrice di questo mese è la Keller, io vi avevo già presentato il libro che avevo intenzione di leggere, ovvero La Felicità di Emma, che per me è stata una piccola sorpresa. Io avevo questo libro da tantissimi anni in libreria e finalmente è arrivato il momento di farlo uscire. Mi spiace di averlo tenuto così tanto a lungo dentro la libreria, se avessi saputo quanto mi ci sarei divertita sicuramente lo avrei letto molto tempo fa. Che cos'è La Felicità di Emma? Tra l'altro vi volevo dire che in tedesco questo romanzo si intitola Emma's Gluck, che significa anche fortuna oltre che felicità in tedesco ed effettivamente questo titolo si presta ad entrambe le interpretazioni. Emma è una giovane donna che vive nella campagna tedesca, fa una vita durissima perché porta avanti un allevamento di maiali completamente da sola, la fattoria la manda avanti lei, tutta la famiglia che aveva, cioè tipo i nonno e i genitori sono morti da tempo e lei fa questo lavoro durissimo tra l'altro con la fattoria che è pignorata perché lei non riesce a pagarsi i debiti con il suo lavoro. Dall'altra parte abbiamo Max, un uomo che vive in città e che praticamente non ha mai vissuto per davvero, nel senso che la paura di vivere, la paura di fare le cose, la paura delle conseguenze lo ha sempre bloccato. Qualsiasi cosa di piacevole ci fosse da fare lui vedeva subito il lato negativo o pericoloso, per esempio ad un certo punto racconterà in un flashback che aveva vinto una vacanza in Messico e non ci voleva andare perché se cade l'aereo e si affogo e se mi mangiano i pescecani, insomma è proprio una persona che non ha mai vissuto veramente. Lui ad un certo punto proprio all'inizio della storia gli viene diagnosticato un tumore incurabile e quindi si rende conto di avere pochissimo tempo da vivere e quei pochi mesi che gli restano li vuole passare proprio nel Messico dove ha avuto le più belle settimane della sua vita. Perciò si decide a rapinare il suo amico e proprietario di una concessionaria e a portargli via l'automobile e una Ferrari. In questo modo poi tra l'altro viene venendo in seguito in un rocambolesco in seguimento dal suo amico che è il proprietario dell'autorimessa del venditore di macchine finirà per incontrare Emma. Non vi dico altro però vi posso dire che questo romanzo mi ha fatto moltissimo ridere fino a tipo i tre quarti della storia. Poi purtroppo il finale sistema un po' troppo le cose in maniera quasi forzata, va tutto a posto e non vi dico che è un lieto fine però quello che vi dico è che tante cose che rimangono in sospeso vanno a posto in maniera troppo facilona. Quello sì secondo me è un difetto di questo romanzo che non posso dire sia un capolavoro ma è un romanzo che mi ha molto divertita. L'autrice, Claudia Schreiber, è un'autrice televisiva e scrive fiction o comunque telefilm e si capisce molto bene dal tipo di scrittura che ha perché è una scrittura molto asciutta, semplice, si fa delle descrizioni ma non ci si dilunga, non perde troppo tempo e soprattutto si affida ai dialoghi e grazie a questo il romanzo a questa velocità si legge molto velocemente e ci si riesce anche a immaginare in 4 e 48 la situazione senza magari poi perdersi troppo in descrizioni inutili. Cioè quello che ci serve noi ce l'abbiamo, per il resto non ce ne ha bisogno. Appunto dicevo la scrittura è molto rapida, succedono un sacco di cose, soprattutto la sua abilità sta nei tempi comici. Io vi dico ho letto questo romanzo in tram e mi capitava abbastanza spesso di scoppiare a ridere davanti a tutti proprio perché c'erano dei momenti veramente spassosi e che ci si immagina facilmente proprio come se li si vedesse in televisione oppure al cinema. Infatti è stato tratto poi un film da questo romanzo, anche se poi è passato per i video cinema italiani, se vi capitasse cercate almeno di vedere il film perché sono sicura che vi fate delle grandi risate. Anche il finale per esempio c'è un finale finale che è proprio una chiusa, io me lo immagino come un tipo di finale che passa dopo i titoli di coda in cui si tira fuori in particolare che c'era a metà del romanzo e si vede come quel particolare poi è andato a svolgersi, proprio quel tipo di romanzo che si capisce a dei tempi molto visivi, molto pensati per lo schermo. Questo secondo me non è uno svantaggio, è sicuramente un romanzo di svago con dei personaggi abbastanza macchiettistici ma in maniera comica. Per esempio il poliziotto di paese che è l'innamorato di Emma va sempre in giro con sua madre nel sedile posteriore della macchina perché sua madre è una che non lo molla mai, nel senso che lei dice sono io l'unica donna della tua vita non ti serve nessun altro e sempre questa donna è sempre in giro con la sigaretta in bocca un po' di quelle che pendono sono sicura che già solo a dirvi così ve la immaginate senza fatica. Ecco è fatto tutto così con questi personaggi abbastanza sì macchiettistici o che potrebbero derivare da cinico tv che mi hanno fatto fare delle gran risate e che io consiglio per quei momenti in cui magari uno può essere un po' triste si trova nel momento del blocco del lettore può essere un romanzo che si legge in un viaggio in treno o anche in una giornata in piscina in spiaggia insomma quei momenti in cui non c'è bisogno di grande concentrazione però tutto sommato non significa che si sta leggendo una porcheria anzi è un romanzo spiritoso semplice senza grosse pretese a volte calca un po' sul melodrammatico però tutto sommato è un romanzo al quale io ho dato tre stelle e che non solo mi sento di consigliare ma anche che penso che finirà nell'elenco dei libri da regalare magari agli amici che non leggono tantissimo che leggono uno due libri all'anno questo secondo me è un romanzo adatto allo scopo come vi dicevo non vi dimenticate di andare poi a vedere che cosa hanno letto i miei compagni di avventure ci rivediamo domani con il prossimo video e nel frattempo buona lettura a tutti